Amici di Nerd Games, siamo qui con Marco Balzarotti, storico doppiatore di Batman e le serie animate e non solo. Poi dopo analizzeremo anche un po' al di fuori della serie animata. Innanzitutto grazie mille per la tua disponibilità, siamo qua al Cartoon Mix di Milano. Prima domanda, semplice tra virgolette, qual è il tuo rapporto con Batman? Sereno, sereno, serenissimo. Sono 27 anni, dal 92 aiutami al 2019. Sì, se la matematica non ci inganna. Conviviamo sotto le stesse mura, conviviamo bene, non abbiamo mai litigato. Perché è meglio non arrabbiarsi con lui. Meglio non arrabbiarsi con lui, è un pezzo della mia vita, mi ha accompagnato. Tanti altri personaggi sono passati dalla mia ugola, questo mi ha accompagnato per una grossa fetta della mia vita, per cui bene così. E a questo proposito, infatti, ti chiedo se hai la percezione che i fan, quando ti sentono parlare, per loro parla Batman. Cioè se senti una sorta di peso, di responsabilità, anche onore da questo punto di vista. Questo non me lo sono mai posto, anche perché Batman parla in questo modo. Quando tu fai un altro personaggio, che magari può essere tutto pazza, questo non è... Per cui diventi un po' un camaleonte che si trasforma. E no, credo di no, credo di no che non ci sia questa cosa. C'è stata una preparazione particolare? O ogni volta che ti appresti a doppiare il personaggio di Batman c'è una sorta di calo nel personaggio? Ma no, oramai viene talmente automatico che è anche piuttosto semplice, non richiede una particolare preparazione, diciamo. Poi, come già citato in precedenza, si era animata, ma non solo, perché anche la serie di videogiochi, la serie Batman Arkham, prima nel panel si è parlato di un possibile nuovo capitolo, forse sulla DC League. Stiamo a vedere. Chi vivrà vedrà. C'è una differenza dal punto di vista del doppiaggio, tra doppiare una serie animata o un videogioco? C'è una grossa differenza, perché nella serie animata, se non altro, tu vedi il disegno, vedi le espressioni, vedi gli occhi, vedi la faccia. Nel videogioco, purtroppo, ma per motivi pratici, lavori su una forma d'onda, come dicevo prima, e non hai neanche la possibilità di sentire quello che ti viene chiesto o come ti viene risposto. Tu senti solo quel pezzettino dove tu dici una cosa. Per cui, tu cerchi di scimmiottare, tra virgolette, quello che ha fatto il doppiatore americano originale, sperando che poi, una volta messo insieme tutto, funzioni. Praticamente voi ascoltate il doppiaggio originale, avete le battute? Ascoltiamo, ma neanche il doppiaggio, la battuta. Ok. Senza sapere, per esempio, che ne so, adesso io ti dico, sì, io sto bene, ma non so come tu mi hai chiesto come stai, o cosa mi dirai dopo, sento solo quel pezzettino in inglese. Molto a scatola chiusa. E devo andarci sopra, devo andare non su una faccia, ma su una forma d'onda che vedo su uno schermo. Chiaramente è molto più complicato doppiare un gioco. Sì, più che altro, poi la resa finale, uno dice, ma chissà cosa verrà, sento dire che poi tutto sommato il prodotto è gradevole. Quindi non hai mai avuto poi l'occasione di giocarci o di testare con mano? Io purtroppo non sono un gamer, sono vecchio. Vabbè, quello non vuol dire. Mi è capitato di vedere su YouTube dei pezzi o di vedere mio figlio che ci gioca. Vabbè, poi io di mio sono un perfezionista per cui mi rifarei sempre. In quel caso lì ancora di più. Certo. Perché comunque è stato fatto in maniera assettica, ma non per chi, diciamo, non è colpa di nessuno. Si può lavorare solo in quella maniera. Chiaramente, come tu hai detto, il personaggio di Batman ti ha legato, ti lega tuttora alla tua storia del doppiaggio. Ricordi invece qual è stato il tuo primo doppiaggio, la tua prima volta in una sala di doppiaggio. La mia prima volta è stata nel 1982 in un telefilm della serie Quincy, che credo non vadano neanche più in onda, o se vanno in onda vanno in onda su rete 4, per cui si parla di una vita fatta. Emozioni al momento. Mani sudate, terrore, anche perché adesso è cambiato il modo di lavorare nel doppiaggio, di solito si è da soli, si chiama in colonna separata, e tu non hai nessuno. Senti quello che è stato inciso, se qualcuno è inciso prima di te, e ti intoni, altrimenti sei tu il primo. Allora magari eravamo in 4-5 a Leggio, io avevo l'ultima battuta e dicevo ecco adesso sbaglio, e questi mostri mi ammazzano, perché devono ripare per colpa mia. Certo. Parlando sempre di Batman, chiaramente c'è una diatriba, possiamo chiamarla così, dalla serie animata al mondo del cinema. Per il mondo del cinema sono state fatte altre scelte. Ti sarebbe mai piaciuto vestire anche i panni al cinema, o ti piacerebbe? Perché la cosa positiva è che Batman non muore mai, insomma ci saranno sempre film di Batman. Ma ti piacerebbe? Ma se dicessi di no sarei bugiardo, è anche un fatto logistico, perché io purtroppo vivo a Milano e il cinema è tutto a Roma, ora le serie di Batman sono a Roma e io quando c'è bisogno di me vado. Purtroppo ho degli impegni legati anche alla mia famiglia, al mio vissuto, che non vi sto a raccontare, che mi tengono purtroppo qui. Però se dicessi no non mi piace, sarei bugiardo. Sempre parlando tra serie animata e cinema, c'è un Batman, anche tra attori o quello della serie animata, che tu ami di più, che secondo te incarna meglio la figura del Cavaliolo Scuro? Guarda, per affetto, perché è stato il mio inizio su Batman, come dicevo prima, la prima serie. Perché era notturna, perché era ambientata. Molto vicino al fumetto. Molto vicino al fumetto, esatto, bravo. Ed è quella che ho amato di più. Ultimamente capisco, si sta un po' raschiando il fondo del barile per cercare nuove avventure, eccetera, eccetera. Affettivamente per me è proprio la prima serie. Quando hai avuto l'idea o la voglia di fare il doppiatore? Cioè, come è nata quel giorno in cui hai detto voglio fare il doppiatore? Allora, io studiavo recitazione e mi è capitato di conoscere questa vecchia doppiatrice che ora è scomparsa, non c'è più, che una volta in compagnia mi ha detto hai una bella voce, ma perché non provi? Sì, erano gli anni 80, erano gli anni in cui c'era un sacco di lavoro, erano gli anni in cui probabilmente anche se all'inizio non eri tanto bravo ti davano delle seconde possibilità, un po' per volta dai piccoli personaggi siamo passati a quelli grandi e dopo 37 anni siamo ancora qua. Siamo all'icone adesso. Siamo addirittura, ma no, siamo ancora qua. Sì, lo dico tranquillamente io, siamo all'icone. Invece volevo concludere, anzitutto ringraziandoti per la disponibilità, immagino che magari progetti futuri non si può parlare per magari... Guarda, oramai ci fanno firmare dei protocolli di segretezza... Esatto, complicatissimi, che neanche alla NASA... Che non puoi sapere, agli studi di doppiaggio oramai si entra coi tornelli, telecamere dappertutto, non può venire nessuno ad assistere, guai a testi, fai un selfie, per cui... Invece volevo concludere allora l'intervista, di nuovo ringraziandoti, un consiglio se c'è qualcuno dei nostri ascoltori che vuole fare il doppiatore. Allora, passione, passione, bravura sicuramente, tenacia, non fermarsi davanti al primo no e niente, cercare di mettercela sempre a mille. Perfetto, Marco. So che è banale, ma è così. Perfetto, Marco. Grazie mille per la disponibilità e buon proseguimento. Grazie. Grazie mille.